Presidente di Labbio ci ritroviamo nel post-gara a cuore batticuore, spesso e volentieri, almeno nelle ultime stagioni, le partite tra Vigor, Senigalli e Chieti sono tutte così. Comunque un Chieti che ha mostrato una buona personalità, anche se dall'altra parte c'era una squadra che voleva a tutti i costi pareggiare. Sì, devo fare gli onori alla Vigor che ha giocato e ha giocato fino all'ultimo per cercare di riprendere la partita. Noi, d'altro canto, abbiamo sofferto un po' come ci capita nelle ultime partite, ma come avevo detto già la settimana scorsa è un Chieti che va increscendo e io lo vedo sempre più in forma e più in salute. Questo mi fa ben sperare per il proseguo del campionato. A proposito di vedere, come ha visto questo gol non-goal, hanno protestato parecchio, sarebbe stato il 3-3 per la Vigor, pallone che ha battuto contro il palo, poi anche sull'altro palo, anzi in un primo tempo io pensavo che fosse fuori gioco perché l'avevo vista dentro quasi la palla, però evidentemente non è entrata. Lei come l'ha vista? Io la palla non l'ho vista dentro, assolutamente no, però c'è da apprezzare che loro sono andati vicinissimi al pareggio e diciamo che ci è andata bene. Adesso ci sono all'orizzonte due partite in casa, insomma si può, si deve spiccare il volo? Noi ci proviamo, sicuramente faremo le altre due partite come si deve con il cuore, ma torno a ripetere, io credo che vedremo un Chieti sempre più in crescita.